Un saluto a tutti cari amici, buona domenica e benvenuti sul mio canale. Guardate un po' chi si rivede nei nostri video. Un nostro beniamino, il mitico Peter Pan degli Scacchi, Daniel Dubov, che sta giocando la Russian Super Final, che altro non è che il campionato russo. Un torneo a 10 giocatori difficilissimo, molto equilibrato, dove le patte abbondano, ma dove abbondano anche vittorie eccezionali. Stiamo per guardare insieme il giovane Nesterov, 21 anni, giocatore in crescita, quindi un altro giovanissimo da tenere d'occhio, contro il nostro Daniel Dubov. Non dimenticate di like al video, partiamo. Nesterov di bianco apre con D4, guardate Dubov, risponde con E6, quindi è pronto a giocare la difesa francese se il bianco continua con E4. E invece Nesterov gioca C4, alfiare in B4 con scacco e la difesa Keres, il bianco si difende con alfiare in D2, A5, o donna in E7, sono le due continuazioni principali della Keres, e invece Dubov torna indietro con alfiare in E7. Per adesso, solamente 40 partite in database alla terza mossa, ma la partita rientrerà in linee conosciute, perché il bianco gioca a cavallo in C3, spinta al centro in D5, ora, cavallo in F3, cavallo in F6, siamo nel gambetto di donna, dove però il bianco è già sviluppato da alfiare scuro in D2. Fatto è, fatto sta però, che questo alfiare in D2 non ci sta per niente bene, e quindi il nero non ha perso un tempo, perché il bianco lo riporta subito in G5, e siamo rientrati nella linea principale del gambetto di donna rifiutato, naturalmente, con decine e migliaia di partite giocate nella storia. H6 attacca subito l'alfiere prima di arroccare, quindi l'alfiere spesso torna in H5, invece Nesterov cambia l'alfiere sul cavallo, l'alfiere di Dubov ricattura in F6, arriva E3 per liberare l'alfiere chiaro. Arrocco corto, adesso è Nesterov che ci sorprende, perché gioca H4. Ora, l'idea, chiaramente, è la spinta molto offensiva G4-G5, la risposta più giocata e forse anche più adeguata, da un punto di vista strategico, sarebbe C5, quindi la risposta al centro contro un attacco su un'ala, e invece Dubov gioca un'altra mossa buona, G6. Annulla la minaccia di G5, e come mai? Perché dopo G6 alfiare in G7, G4-G5 si chiude tutto, giocando H5. Però, Nesterov trova un altro punto di contatto, H5 la gioca subito, e il nero è costretto a giocare G5. C per D5, E per D5, alfiare in D3. Allora, alfiare in G7, che naturalmente ci sta meglio, oltretutto libera il pedone F. Alfiare in C2, guardate che cosa vuole fare il bianco, costruire la batteria alfiare donna per dare matto, e allora intanto gioca alfiare in E6. Se donna in D3, non ci sono problemi perché si gioca F5. Cavallo in E5, interessantissima, giocata da Nesterov, in qualche modo non impedisce, ma indebolisce la spinta F5. E allora Dubov finalmente attacca al centro con C5, donna in D3 minaccia matto, F5 è forzata, ma il pedone F perde il controllo della casa G6, in G6 il bianco ci mette un cavallo fastidiosissimo. Cavallo in G6, torre sotto attacco, si porta in F7, D per C5, vince un pedone, sì, ma per quanto tempo? Cavallo in A6, ma anche cavallo in D7, attaccano il pedone. Certo che con cavallo in A6, il pedone non può essere difeso con B4, e quindi il nero si riprende, il pedoncino. E allora, arrocco corto anche per il bianco, cavallo che cattura in C5, attacca la donna, donna in E2, donna in B6. Guardate, 19 mosse, il nero ha trovato un controgioco. Ha quindi sicuramente equalizzato la partita. Cavallo in B5, che cosa fa? Migliora la posizione del cavallo, chiude la colonna B alla donna, A6 non funziona, guardiamolo subito, perché uno potrebbe pensare, va bene, io lo faccio spostare, e poi catturo in B2. A6 non funziona, perché c'è cavallo in D4, donna che cattura, torre in A che va in B1, la donna vince un secondo pedone, ma c'è cavallo per alfiere, il cavallo ricattura, donna in D1, torre in D8, alfiere per F5. Guardate, si mette male per il nero, che non può catturare, che non può catturare l'alfiere, perché c'è il terribile doppio di cavallo, quindi il bianco sicuramente, sì, ha perso un pedone, ma non sta male per niente. Allora, dopo il cavallo in B5, il pedone, lo cattura Dubob, ma lo cattura di alfiere, alfiere che cattura in B2, attacca la torre, torre in A che va in B1, l'alfiere si sposta, attenzione, è rimasta la donna sotto l'attacco a raggi X della torre. Non c'è, però fortunatamente per Dubob, nessuna scoperta micidiale, la scoperta arriva e cavallo in D4, donna sotto attacco, si porta in D6. E allora cosa fa il bianco? Centralizza la seconda torre, torre in F che va in D1, bersaglio, guardate, diventerà il pedone isolato in D5, torre in D8, stessa idea, fermiamoci un attimino. Una situazione molto complessa, dove il nero ha un pedone di vantaggio, la coppia degli alfieri, una coppia degli alfieri che però il bianco gli può togliere quando vuole, inoltre il cavallo in G6, è veramente una spina nel fianco del nero. Attenzione, perché il re del nero è anche più esposto di quello del bianco, il nero però ha il 2 contro 1 di pedoni sul lato di donna, proprio per giocare contro questo 2 contro 1, la spinta a 4 è probabilmente buona, e invece Nesterov gioca a donna in F3, prende di mira con sempre più pezzi il pedone isolato. Cavallo in E4 è ottima, perché chiude la diagonale di attacco della donna sul pedone, torre in D3, guardate cosa vuole fare, vuole cambiare il bianco, il cavallo sull'alfiere, togliere un difensore al pedone e raddoppiare le torri, e allora non glielo fa fare Dubov, cambia prima lui l'alfiere scuro sul cavallo, la torre ricattura in D4, cavallo in C3, attacca la torre e ne impedisce il raddoppio, allora la torre si porta in E1, ritorniamo un attimo indietro, vedete che il cavallo attacca anche il pedone, guardate che succede se il bianco sbaglia e gioca torre in B2, G4 attacca la donna, e guardate questo cavallo gli toglie qualsiasi via di uscita, le vie di uscite sono soltanto le due case scure, ma c'è il doppio di cavallo che vince la donna, spettacolare, ma naturalmente Nestorov non si fa sorprendere, torre in E2 proprio ad evitare questo scacco di cavallo da E2, torre in C8, Dubov ha preso non soltanto la parità, ha preso una fortissima iniziativa, e allora l'alfiere si porta in B3, arriva B5, naturalmente Dubov vorrà spingere A5 e A4, allora A4 la gioca il bianco, B4 crea il pedone passato, per evitare A5, che quindi si connetta col pedone passato, Nestorov gioca A5 lui, Re in G7 si avvicina al cavallo, che prima o poi il nero vorrà eliminare, e allora donna in G3 cerca il cambio donne, un cambio donne che Dubov accetta subito, donna per donna, il pedone F ricattura, il bianco sembra poter catturare il pedone, ma adesso è mossa al nero, ma la struttura si è ulteriormente sciopata, per quanto mi riguarda, la situazione è addirittura peggiorata per il bianco, allora Dubov gioca a torre in B7, G4, torre in C5, è il nero che vuol vincere il pedone, addirittura fare i due pedoni passati e connessi, allora il pedone avanza in A6, torre in B6 protegge ed attacca, G per F5, l'alfiere ricattura, guardate c'è il cavallo sotto attacco, stavolta tre volte, allora il cavallo si sposta in E7, attacca l'alfiere sospeso, attacca però la terza volta anche il pedone, e allora l'alfiere si porta in E4, re in H2, ora torre in C che va in B5, mi sembra tiene tutto protetto, e poi la torre sembra poter catturare il pedone, ma seppur buona questa manovra, il bianco può ancora giocare torre in A1, allora non sta a perdere tempo Dubov, e gioca, torre per pedone subito, lascia in presa il pedone in B4, pedone che il bianco cattura, torre che cattura in B4, attenzione alla conquista della settima traversa da parte della torre, e allora torre in C7 è sicuramente buona, torre in B6 mi pare ancora meglio, perché non solo chiude la colonna, e quindi impedisce al bianco di portare la torre in settima, visto che dietro la torre c'è l'alfiere, e la torre non si può spostare, forza il cambio delle torre. torre per torre, il pedone ricattura in B6, è questo ora il pedone passato, torre in A1, di nuovo il bianco, vuole portare la torre in settima, e di nuovo torre in C7 pare buona, torre in B5, addirittura, minaccia l'alfiere. Dove va questo alfiere? Il bianco Nestrov lascerà questo alfiere in presa? Perché, faccio un esempio, se alfiere in A4 non ci può andare, addirittura, cioè prima torre in A5, poi rimane inchiodato sulla torre, dove si va? Stessa storia in A2, se alfiere in D1, per esempio, e qui c'è sì il cambio, cavallo per alfiere, la torre ricattura, torre in C5, guardate che succede, succede che con re in F6, il cavallo è perduto, e allora deve ritornare in G6, per forza, e quindi alfiere per cavallo, il pedone ricattura, il re ricattura, e siamo in un finale di torri e pedoni, il nero ha due pedoni di vantaggio, il bianco è perduto. Ritorno a noi, e allora è disperato Nestrov, lascia l'alfiere in presa per giocare torre in A7, re in F8, guardate che succede, questo alfiere sotto attacco non sa dove andare, e la torre non può proteggerlo, perché è sotto attacco anche il cavallo, allora un pezzo è sicuramente perso, cavallo in C6, torre che cattura l'alfiere in B3, cavallo in D4, torre sotto attacco si porta in B2, dove insieme all'alfiere attacca G2, allora cavallo in E6 con scacco, re in G8, torre in G7 con scacco, re in H8, non ci sono più scacchi, ma con torre in F7, attenzione, il bianco cerca la patta per scacco perpetuo, andiamo a vedere velocemente come si trova, andiamo a far giocare a Dubov una mossa sbagliata, ma comunque neutra, che è B5, e allora guardate, torre in F8 con scacco, re in H7, torre in F7 con scacco, re in G8, torre in F8 con scacco, re in H7, eccetera, eccetera. Ma qui è mossa a Dubov, che cattura di torre in G2 con scacco, il re si sposta in H3, anche G4, protetto da torre, arriva con scacco, re in H4, torre in H2 con scacco, e guardate che succede, re cattura, scacco di torre da G2, re in H4, e qui però, ora si è aperta la colonna G, e quindi lo scacco si pare, si para, semplicemente interponendo la torre in G8, e allora Dubov gioca G4, D4, e per D4, cavallo in D5, cavallo in F4, cerca il cambio dei cavalli, che comunque lascia il nero con vantaggio decisivo, ma Dubov trova qualcosa di ancora migliore, e noi siamo arrivati all'ultima mossa della partita, e anche al nostro quizone, mettete pure in pausa, e da voi la parola. Ritorniamo subito a noi, cosa avrà giocato il buon Dubov? Re in G8, attacca la torre, e quindi, qui che si fa? la torre sta difendendo il cavallo, ora, se cavallo, oltretutto questa torre, non può ottenere la difesa di questo cavallo, se si sposta e basta, è chiaro che si perde il pezzo, se cavallo per torre, re per torre, e rimane con un pezzo di vantaggio, e se cavallo per cavallo, re per torre, cavallo che cattura il pedone in B6, re in F6, cavallo in D7 con scacco, re in F5, cavallo in E5, re in F4, si minaccia matto, re in H3, attacca la torre, torre in G1, torre in H1 è matto, e allora, cavallo in G6 con scacco, bisogna rimuoverlo, alfiere per cavallo in G6, il pedone ricattura, torre che cattura in G6, e la partita finisce qui. Bellissima vittoria di Dubov, una vittoria stavolta non grazie ad una linea particolare di apertura che ha sorpreso il suo avversario, ma grazie ad un medio gioco veramente da campione, non dimenticate di iscrivervi al canale, spero che la partita vi sia piaciuta, di nuovo buona domenica a tutti, e naturalmente, ci vediamo domani con un nuovo video. A presto!